Il presidente Luca Scorcella ha convocato la prossima seduta del Consiglio Comunale di Tolentino che si trarrà mercoledì 30 marzo con inizio fissato alle 16.30 nella sala conferenze dell'ASSM Spain via Roma. Questi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale, interrogazioni, mercorelli, cicconetti, riccio, quercetti e cesini sulle tempistiche del campus scolastico di Tolentino, ordine del giorno contro la guerra in Ucraina, rappresentanti del Consiglio in seno a Comitato Mensa Istituto Comprensivo Grandi, surroga, regolamento generale delle entrate comunali, approvazione, regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, modifica, variazioni di bilancio 2022-2024, programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, approvazione, secondo aggiornamento, accordo pubblico privato tra la Moschini S.P.A. e il Comune di Tolentino, riqualificazione, area a parcheggio zona Formaggino e realizzazione ascensore pubblico di collegamento al centro storico, atto di indirizzo, accordo per la delocalizzazione della ditta Saipa e la costruzione di un nuovo palasport, atto di indirizzo, ditta Breccia Graziano, autorizzazione a vendere i lotti siti a Tolentino in località PIP Le Grazie, variante parziale a PRG in località Col Maggiore, adozione, piano particolareggiato di iniziativa pubblica del Parco del Castello dell'Arancia, atto di indirizzo.